Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi è mercoledì e ci ritroviamo con il secondo episodio di questo o quello la rubrica dove cerco di rispondere a tutti quelli che sono i vostri dubbi devo ringraziarvi perché veramente il supporto sotto il primo video è stato fenomenale sono stati quasi 180 commenti, cercherò di rispondere in questa ventina di minuti insieme a tutti quelli che sono insomma i commenti che avete lasciato, almeno la maggior parte vi ricordo che insomma se non avete avuto risposta riscrivete il commento sotto questo video che poi insomma riceverà una risposta nell'episodio settimana prossima e insomma senza perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo a sviscerare quelli che sono i temi e le domande di questa settimana eccoci qua, passati subito su quella che è la schermata dove ci attende quello che è il video appunto di settimana scorsa abbiamo il buon Nicola Leoni che ci chiede Sterling If giocato ATS in un 4-3-2-1 ha senso? beh sicuramente sì, Sterling If insomma è un giocatore sicuramente da fascia agile, rapido quindi esattamente il giocatore che più si sposa a moduli di questo tipo anche l'esterno in un 4-2 il giocatore è un 4-2-3-1 sicuramente abbiamo poi Gian Battista Mandola che chiede a centrocampo è meglio la coppia Acunia Nainggolan o Duncan Acunia? ma qua la risposta è molto semplice secondo me è verte su quella che è la coppia Duncan Acunia perché Acunia è uguale per entrambe Duncan è un centrocampista molto molto polivalente che ho utilizzato anche sul mio account di Play e in più ha il quid di essere gratuito quindi rapporto qualità prezzo tutta la vita la coppia Duncan Acunia modulo 4-2-3-1 chiede Marco meglio Herrera e Bruno con Rashford ATT o Vinaldum e Bruno ACC con Rashford 86 ATT? parere mio personale meglio il buon Vinaldum UCL con Bruno 92 con Rashford 86 ATT di fatti il buon Herrera ha anche perso ieri l'andata di Champions contro il Chelsea quindi ha missato il primo upgrade sarà difficile che vede un upgrade ma comunque come coppia vista anche che tra Rashford 86 e 87 non è che ci sia questa grande differenza preferisco la seconda Holotech YouTube worth il centrocampo del rombo fatto da Milinkovic Renato come Mezzali e Bruno Ghimaraes da CDC ti dico assolutamente sì ma preferisco Milinkovic che è un po' più fisico è un po' più tronco diciamo meno agile e rapido dei movimenti da Mediano con Mezzali, Ghimaraes e Renatino Sanchez Brando Braca Alan Deadliner nel pacchetto regali stelle del futuro considerando un tipo di gioco diverso da quello meta potrebbe essere utilizzato? questa è una risposta abbastanza standard ossia nel momento in cui avete delle carte che sono non scambiabili è un delitto non provarle Alan per quanto sia un giocatore 3-3 quindi pieno di problemi sotto questo punto di vista nel momento in cui lo avete non scambiabile appunto è un peccato non andarlo a provare anche se deve stare il quanto più possibile lontano dalla porta quindi lo utilizzerei esterno Riccardo Volpato chiede ma io manefrizzo Cristiano Base non c'è paragone si va sempre su Cristiano Base per me per quanto riguarda finalizzazione, fisicità eccetera eccetera Antoi, Renato Sanchez a 8 e Renier in fascia o Bamba a 8 con Renato a 10 tutta la vita Bamba con Renatino il buon Renier è gratuito ma non mi fa impazzire Samuel Estuffo chiede come CTC Curtis Jones o Renatino andrebbe ad affiancare Cantè per me la scelta è Renatino Jones è un ottimo giocatore ma è molto particolare e va a sposare uno stile di gioco per quelli che sono appunto player che difendono molto molto manuale ecco quindi Renatino comunque offre sia una buona fase offensiva che difensiva ed è anche un po' più automatico Max Ice ci chiede Soce Kiff 86 o Gundogan 86 ma tra i due ti dico probabilmente il buon Gundogan che è una buona carta non costa manco troppo se proprio poi alla peggio la si può anche riciclare in una SBC Luigi Latorre chiede prendo Elsha risparmiando qualche soldino per ATT OCC o vai su Mbappé base guarda la risposta qui è molto semplice Mbappé base è un altro mondo il buon Elsharawi fa il suo se hai una squadra completa e ti serve il tassello definitivo da mettere in avanti vai su Mbappé altrimenti fai la scelta di Elsharawi Luke Mark chiede tonali a 10 o cante a 8 ti dico avendoli non scambiabili non è a fare l'intesa la differenza ma a questo punto magari più chi è il suo compagno di reparto quindi se hai un giocatore magari un po' più tecnico metti i cante e se hai un giocatore un po' più difensivo metti i tonali per quanto riguarda Storm invece ci dice meglio Zambrotta Mid Robertson Totimension tutta la vita Zambrotta Ivan Rossi meglio prendere Cancelo due final con Bruno a 10 o d'est Bruno a 8 vai su Cancelo che probabilmente prenderanno non uno ma due upgrade Giuseppe domanda semplice meglio Mbappé o Neymar per chi ha una squadra umile ha lo stato attuale delle cose se ti serve una punta o un C-O-C io ti dico Neymar se ti serve un esterno ti dico vai su Mbappé Ale 12 Ciao Ribe meglio Aguero Flashback o il Butra Baby ma onestamente ti direi il buon Butra Baby anche se comunque tra i due parliamo di due carte che non sono eccessivamente meta visto che insomma sono piccolini quest'anno Daniele Mattozzi meglio Lautaro 87 Freeze o Lif l'88 guarda io ti dico che ho provato il Freeze e mi è piaciuto tanto quindi ti direi di optare più su di lui Davide Bressa prendo prima Joe Gomez o Rush for Diff dipende se hai più necessità in difesa ti dico prendi Joe Gomez se no prendi Rush for Diff ma ti dico probabilmente bisogna più di Joe Gomez per com'è il gioco adesso Chris Silvi ci chiede con 4 milioni di squadra consigli anche una mista di leghe assolutamente sì o farei una ibrida all'interno della quale sicuramente non possono mancare Neymar e Mbappé che ormai con un milione e mezzo ti porti a casa quindi sicuramente un'ibrida con loro due come punti di riferimento probabilmente ci riuscirei anche a piazzare un buon Ronaldo linkato con un Bruno Fernandes questi sono i cardini che non devono mancare così come anche la difesa Baram Mendy sicuramente allora Dario Bicocchi Nedved Baby e Marquinhos Freeze o El Sharawi e Tonali ma tutta la vita El Sharawi e Tonali perché El Sharawi è molto più forte di Nedved Tonali è molto forte forse anche più di Marquinhos Robben Flashback è un bel giocatorino peccato per il treppiede debole ma per fare la fascia ne sa a pacchi Emame El Sharawi o Maxi Man ti serve da punta da punta io ti dico vai su El Sharawi perché Maxi Man ne ho usato il freeze e si caga una marea di gol che tu non hai idea El Sharawi invece è un clinical finisher mi piace veramente tanto e ha anche un'agilità paragonabile a quella di Neymar quindi molto molto promosso c'è anche la review sul canale Ivan Zarcone in un 4-4-2 El Sharawi C.O.S. Digno mid di bala ATT con Ronaldo Flashback o Ronaldo Flashback C.O.S. Digno mid Neymar ATT o Robben Flashback tutta la vita vai con Robben magari Panchinaro se ce l'hai già sbloccato e vai con invece quelli che sono il primo quartetto di giocatori Flix Ronald mid di O.M.I.D. ci sta da ATT o per forza C.O.C. ATT in un attacco a due ci può stare però non ti aspettare l'agilità di un Neymar lo preferisco da C.O.C. però lo puoi testare sicuramente Francesco Crescioli Politano Frisa a 10 o Coluseschi a 7 entrambi non scambiabili al fianco di Cristiano Ronaldo da punta per quanto riguarda l'agilità eccetera eccetera ti dico Politano Coluseschi lo vedo meglio in fascia C.C.Stefano meglio migliorare Renan Lodi con Carlos per mantenere a 10 Diego Carlos o usare un terzino cheap ma lasciando Diego Carlos a 8 dipende se hai una squadra completa fai l'investimento di Carlos altrimenti vai di terzino cheap e lascia Diego Carlos a 8 che essendo un unico giocatore a 8 non ti crea grossi problemi Luca Fitness meglio Ronaldo Flashback o Salano ho parlato nella review di Ronaldo Ronaldo Paolo Morbiti Curtis Jones è considerabile meta assolutamente sì sto morendo abbiamo Luca Basciano che ci chiede meglio Bruno Chimaraes o Kanté ti dico sono due giocatori simili magari Bruno Chimaraes è un po' più completo per quanto riguarda la fase di impostazione ma comunque ti dico se hai un Kanté non scambiabile rimani con lui se no Bruno Chimaraes ti può tornare utile anche per linkare un Nemaro o un Bappé c'è Booman che ci fa i complimenti per le spiegazioni cuoricino per Booman e Carlo Vicinanza ci chiede come si fa a pressare quando fanno giropalla nella loro metà campo con i tastini l'hai provato in tutti i modi lì la differenza lo fa switchare in maniera molto rapida per cercare di andare appunto a portare a sfissiamento ai vostri avversari e poter aiutarvi anche con freccia in giù freccia a sinistra per poter pressare Giuseppe Spina io James Future Star CDC Bruno 92 Kimmich Totti come li puoi usare insieme avendo un 4-4-2 guarda senza scervellarti io andrei su Bruno e James Kimmich purtroppo ti costerebbe andare a fare troppe macumbe per poterlo mettere oltre che dovrei comunque aver visto anche poi il resto della squadra il budget eccetera eccetera per provare a inserire lui Niccolo Buccella chiede Cristiano Base Eto o KK Prime e Cristiano Base ma se ti servono due punte vai tutta la vita con Eto che è una sorta di Mbappé ma con 5 con 4 di skill e non con 5 Leandro Bava Di Bala 8 come lo vedi meglio esterno 4-4-2 o C-O-C o destro ma Di Bala può fare entrambi i ruoli menzionati visto che alla fine il C-O-C nel 4-2-2 o l'esterno nel 4-4-2 sono fondamentalmente la stessa cosa per quanto riguarda Lautaro Frizzo o Krusevski da ATT ti dico vai di Lautaro sempre per Leandro Cristiano If o Mbappé 91 sempre e solo Cristiano If lo preferisco tuttora in un 4-4-2 a centrocampo con Kamavinga meglio Kanté Johnson Renato ti dico Renato Andrea per quanto riguarda la Rall Prime o mio figlio Dalglish ti dico tutta la vita Dalglish ma vai sul baby perché è assolutamente più agile allora c'è il buon Emanuele Ferragine che chiede insomma riconosce alla lettura di certi valori come potrebbe comportarsi quel giocatore in game per quanto riguarda il rapporto agita equilibrio e reattività lo sapete dovete anche andare a valutare quella forza nonché l'altezza e il body type per quanto riguarda i vari dettagli giocatori dribbling eccetera eccetera non solo appunto va valutato quello che vi ho appena detto ma va valutato poi effettivamente quello che è il test in game per dirvi che con gli swap è uscito quel baggio che statistica alla mano sembra un fenomeno ma body type eccetera eccetera nonché stats un po' fake lo rendono non così forte quindi alla fine uno un'idea se la fa ma quello che fa poi la discriminante tra le carte è effettivamente il test in game dei giocatori poi qua intanto ci dicevano di ingrandire i commenti o semplicemente la pagina chiedo venia non l'ho fatto mi ricorderò dalla prossima volta grazie a Kalel al quale lasciamo un cuoricino miglior coppia di dc per una serie a bastoni cosa ne penso guarda ti dico tranquillamente bastoni il bongosa è una bellissima coppia akron z meglio james dc a 7 con tavernia a 8 e bruno a 8 mettere canzelo per far giocare bruno a 10 metti canzelo a s meglio culo a 7 o bergwin future star a 8 o bamba a 10 ti dico vai di culo che è veramente un bel giocatore l'ho comprato anche per il mio team vito esposito ci chiede in un centrocampo a 2 e bruno e cante vorresti stuire cante con james future star versione cdc ti dico di no perché quel james versione cdc è molto appesantito quindi non fa la differenza non scivola bene non è agile non è reattivo in mezzo al campo secondo me se puoi puoi fare uno switch del terzino a centrocampo altrimenti sblocca magari quel curtis jones luis fimigo mid può giocare nel 5-3-2 a centrocampo assolutamente sì elcia o rushford ti dico vai su elcia perché è più agile e più rapido poi non lo sblocchi neanche a tanto quindi ti può sempre tornare utile andrea giorgioni bejeder o werner alessandrini o salati dico tra bejeder e werner ovviamente bejeder e tra alessandrini e salati alessandrini che ha 4 di piede debole rispetto al 3 di salati carlo orlando chiede da c o c meglio messi o felix pot ti dico vai tranquillamente su il buon messi francesco piolarito da esterno meglio culo il faraone ti dico il faraone per la quinta skill luca santoro chiede rune c c o att ti dico att att c non difende stock ci chiede uno tra etomid baby bejeder e manè candidato toti se ti serve una punta tra questi io andrei tranquillamente sul buon manè candidato toti rapporto qualità prezzo francesco schilzer ci chiede mbappe vale la pena al posto del base ti dico si finalizza molto meglio col sinistro ed è anche un pelo più reattivo roberto nel 4-4-2 come cc centrali qual è la coppia migliore avendo dan cantonali e milinkovic ti dico vai di dan cantonali come esterno sinistro meglio de lo feo elcia elcia per il 5 di skill nonché per l'agilità e per la finalizzazione mbappe toti o re 9 mid io ti dico mbappe toti perché la differenza dei toti al momento è devastante sulle altre carte cannavaro prime o culibali ti dico culibali e tra potenziare la difesa con uno di questi due o potenziare l'attacco con cristiano ti dico tutta la vita cristiano al posto di dibala al momento come dici meglio varan base o walker base tutta la vita varan un difensore buono coi piedi con un'ottima freddezza intorno ai 400k guarda stai chiedendo un po' l'america però un pochino in più c'è quel james da td che puoi spostare quindi vai su di lui aspetta che ne vale la pena domenico mattacola ci chiede walker o laporta ovviamente walker if paolo meglio vera baby o blank baby accanto a bruno pot ovviamente biera miglior mediano difensivo su 5600k andrei tranquillamente a prendere una bella versioncina di renato sanchez magari l'84 europa league che sta droppando vista la sconfitta dell'il nel match di andata con l'ajax benjamin balzarini come esterno meglio figo culuseschi ti dico culuseschi matrix un attaccante della premia da fiancare a sonniff ti dico il buon rushford in una sua versione speciale mariano vicino a bruno meglio cucurella jones o cantè che però non adori troppo ti dico jones se defendi manuale se no cucurella luigi quitadamo meglio cristiano feshbeck o el sharawi ti dico el sharawi ale meglio lo zanedliners o culu giocherebbero entrambi a 10 ti dico il buon culu qualche centrocampista esterno da switchare a terzino qua stai chiedendo un attimino l'america perché per switchare un centrocampista a terzino ti ci vuole almeno 88 più di velocità ed è un po' qualcosa di anomalo come parametro da trovare in un centrocampista ed esterni che ti fanno il terzino non ne trovi perché ti lascerebbero dei buchi hanno tutti poca difesa pulisi ci opporto ti dico tranquillamente il buon porto gabri chiede desto klyber ti dico vai di klyber meglio balak prime schweinsteiger ti dico tranquillamente schweinsteiger francesco da esterno meglio manè ifo culuseschi ti dico manè giuseppe provenzano della bpl chi metteresti terzino ad un prezzo inferiore 300k sblocca quel zinchenko oppure c'è tranquillamente quel banano rulebreaker fabbio mandico come cdc nel 442 al fianco a bruno renato ifo marchini si dico vai di renato if trop 3 attaccanti icon senza budget ti dico ovviamente r9 pelè cruif marco polcini chiede ciao ribe 11 da affiancare a varanne cancello ucl tutta la vita walker if miglior punta del gioco al momento r9 prime moments ovviamente sono uscite le moments meglio closterman o tap soba rapporto qualità prezzo closterman tutta la vita meglio cliber ovidic difensore centrale tutta la vita cliber bella matte chiede giovanni curuseschi o garrincia ovviamente garrinciere giorgio marcel lam cosa dici dove lo devi giocare ma lam può fare sia il terzino che anche il centrocampista emanuele di fato chiede torres del piero di fianco a mbappé tutta la vita il buon del piero che può fare anche l'esterno volendo certo antonio come punta meglio ronaldo mbappé di coronaldo saverio tra neymar e del sharawi chi fai giocare a 10 e chi a 7 vai con neymar a 7 e a 10 quindi vai con la seconda opzione comunque la linea generale che devi seguire è di far giocare solitamente a 10 quello che è più tra virgolette scarso mentre a 7 metti il più forte pat bonni chiede meglio prendere cristiano base messo a tt con neymar o mettere mbappé e neymar a tt e rushford 88 esterno ti dico vai tranquillamente con mbappé neymar e rushford 88 esterno che sei più completo nel 4 2 3 1 chi usi mares lautaro manè gli attaccanti che usi sono neymar mbappé cristiano wish vai tranquillamente di manè lesbc di kaka prime non la farei perché è un esterno valido ma usciranno tante carte che sono secondo me meglio da punta alessandro tra neymar e mbappé vai di cristiano vai di cristiano vai tutta la vita su cocia tu lorenzo costa i 100k davis chiede fofanau jo gomez base ti dico vai su jo gomez che fa sempre il suo leonardo da grada chiede atalif goloven vai di atalif tanta tanta roba per quanto riguarda filippo guerra dalot 886 da dc tutta la vita dalot domenico campacorta da centrocampista accanto a bruno meglio cante if curtis renato europa league un icon vai di renato europa league vediamo l'ultima domanda che intravedo ciao a me serve un mediano da affiancare a cante tram camavinga renato mataus e cn prime quale ti consiglieresti li puoi comprare tutti ti consiglio renatino sanchez che è veramente una bella bella carta ragazzoni miei noi per questo appuntamento di questo quello siamo giunti al termine vi ringrazio per la visione vi ripeto non disperate se non avete trovato la vostra risposta magari ho risposto ad altri che avevano posto un inquisito simile al vostro vi invito a riscrivere commenti qui per partecipare alla prossima puntata di questo quello mercoledì prossimo io vi ricordo di lasciare un like commento già ve l'ho detto iscrivetevi al canale trovate in descrizione tutte le info sulle live giornali sulla piattaforma viola io vi auguro una buona giornata ragazzoni e nulla un salatone al vostro Liberoschi ciao ciao ciao